Si apre con una dura critica al governo il congresso dei pensionati della CGL Campania in particolare la scelta di non rivalutare le pensioni di 1300-1400 euro per finanziare i redditi da partita IVA fino a 85.000 euro un accannimento verso una categoria unica a pagare le tasse in Italia denuncia Franco Tavella, segretario generale della SPI CGL Napoli e Campania Per noi i governi sono tutti uguali però se devo sottolineare alcuni provvedimenti ci sembrano sbagliati e ci sembrano iniquili uno per tutti non dare la rivalutazione tra l'altro con un accordo già sottoscritto con il governo precedente a pensionati che hanno una pensione di 1300-1400 euro al mese per poter finanziare redditi sino ad 85.000 euro al mese per le partite IVA ci sembra un provvedimento ingiusto, sbagliato o iniquo Chiede al governo un fisco più equo il segretario regionale della CGL Campania e di Napoli Nicola Ricci Un fisco più eco perché se manca il prelievo delle tasse non si può intervenire sui servizi essenziali, sulla sanità e sul sociale se pensiamo poi a questa fascia di popolazione la Campania ha cifre da record i pensionati sono più dei lavoratori attivi e c'è bisogno di risposte e di prese in carico complessivamente dei cittadini anziani Grazie mille!